buongiorno eccellenza il confinato mussolini lo trattano con i guanti bianchi non è vero mussolini scherzi del destino dunque voi servite anche nenni anche se siamo stati amici anche se forse mi ha salvato la vita io odio mussolini non chiamatemi eccellenza io sono un prigioniero le sue colpe non si possono lavare con la pietà che accompagna gli sconfitti ma salute con la libertà saprezzi un buon sapere sono stufo dei traitori dell'amore finto e simulato come si può restare amici un tirano di chi ci ha portato alla fame e alla distruzione di chi ha ucciso sbattuto in galera innocenti perseguitato gli ebrei ecco io confinato nell'isola di miei confinati che nemesi fantastica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti